Salve amici del Corriere, siamo qui nel Misano World Circuit per la tappa italiana del campionato del mondo di Formula E. Il rumore che ci sente non è più quello del rombo dei motori, ma è il fischio di questi propulsori elettrici con i loro potenziometri. È un po' impressionante vederli qui. Il circuito si è tirato a lustro per accogliere questo appuntamento e gli organizzatori della FIA, della Formula E, hanno preparato per il pubblico tantissime sorprese. Prendendo un biglietto si potrà di fatto entrare anche nel paddock, dove è stata allestita una spiaggia, una piccola pista di go-kart, dove solo in programma tanti intrattenimenti per il pubblico. Sarà quindi un fine settimana strano quello che aspetta gli appassionati romagnoli. Vedremo se anche i musili elettrici riusciranno a stimolare la passione per la velocità di questa terra. Un saluto a tutti!